Rieccoci insieme con il professor Antonucci. Vabbè, professor del Bari. Professore del Bari. Senti Gianni, ma tu in fondo in fondo, tu sei un tifoso malato del Bari, ma credi ancora che sia possibile salvarsi? Fai capire. Matematicamente è possibile, matematicamente è possibile. Soltanto io faccio una considerazione attraverso il tempo. Una squadra che ha fatto quattro vittorie in 31 partite. Vuoi sentire cosa ha detto al Varec? Non meritiamo, non meritiamo di andare in Serie B, non meritiamo. E' quello che viene dopo, è quello che viene dopo. A proposito di viene dopo, ti volevo far vedere una cosa che io ho voluto citare l'altra sera al convegno sul Bari in Serie A fatto a Castellana Grotti. Ho ricordato ai presenti che nel 1928, quando noi siamo sbarcati per la prima volta in campionati nazionali, fu stabilito un biglietto d'ingresso delle sale per pubblici esercizi, pochi cinematografi, di 25 centesimi. Poi di far pagare 50 lire una tantum a tutti gli utenti telefonici. Che si tassavano i baresi da squadra? Sì, tutti gli utenti telefonici che in quel momento a Bari erano quasi 2000. Cioè c'erano 2000 telefoni, 2000 numeri telefonici. Ma non è tutto. Venne applicato il sovrappesso di 15 centesimi sul biglietto del tram, ma solo la domenica. Tu pensi che hai detto una cosa straordinaria. Adesso che hanno? Di aumentare del 2%. Il 28 è detto questo? 28. Cioè c'erano 2000 telefoni in tutta la città, giusto? Quindi era un privilegiato ai massimi numeri. Però 50 lire, eh? 50 lire. Allora, che cosa accade? Aumentare del 2% dei tassi, mentre la Federazione dei Fasci di Combattimento garantiva 30 centesimi al mese per tutti gli operai iscritti ai sindacati. E il Comune versò un contributo di 6.000 lire. 6.000 lire. Fa il conto, 6.000 lire. Mio padre, che in quell'anno insegnava matematica, lo stipendio massimo era di 400 lire al mese. 6.000 lire. Sai che significa? Ero soldi, insomma. Allora. Vabbè. Anni dopo, nel 1969-70, il Comune e la provincia furono protagonisti di versare al Bari contributo a che il Presidente era De Palo, con una media di 20 milioni all'anno. Poi non parliamo di quando noi sopprofondiamo in quarta serie, quando ci fu una tassazione in più, come oggi stanno mettendo per la sanità, una lira sul prezzo del pesce, della carne e dell'acqua. Addirittura, vabbè. Fermiamoci un attimo. No, è perché è nulla, ma salva un bar. Vuoi sentire cosa ha detto al Varec? Sì? Eh? Vuoi sentire cosa ha detto al Varec? C'è al Varec alle spalle. Sentiamo cosa ha detto. Sì, sì. A parte al Varec. Andiamo. Eh, è un bel complemento. Poi detto dal nostro capitano, è una cosa bella. se lui lo dice perché sicuramente qualcosa ha visto, quindi è quello che sto cercando di fare, cercare di mettermi a disposizione dei miei compagni e sfruttare il mio forte che è la velocità. l'anno scorso il Bari è passato su voi, su Alvarez, sui gol di Barretto, su Alvarez, quest'anno per un motivo o per l'altro, quale dei tre è mancato? La verità mancava quasi tutta la squadra, non siamo stati tutti come l'anno scorso, non solo Al Mirò, Barretto e io. Anche se noi fossimo stati bene, se gli altri compagni non stavano bene, era difficile, non siamo noi… Ma se fossimo stati bene al 100%, qualche cosa in più si poteva fare, magari non dico che eravamo quelli che salvavamo le squadre, però davamo un grossissimo contributo, stavamo meglio sicuramente tanto Al Mirò, come ha detto lui, Barretto e io. Barretto l'avevamo perso quasi per la metà del campionato, che era un giocatore importantissimo per noi perché ci insegnava sempre e al Mirò, un grande personalità nel centrocampo e poi la mia velocità, è venuta a mancare tutti questi componenti e il campionato è diventato duro. Mi sono fatto la domanda l'altra volta perché ho avuto parecchi volte problemi ai ginocchi che mi facevano male, forse per la stanchezza del campionato e in più andare a fare il mondiale. Non è una scusante questa, sicuramente, però a volte uno si fa delle domande e vuole capire che cosa è successo. Può darsi che sono arrivato stanco e non troppo brillante come l'anno scorso. Deve giocare quello che sta meglio e quello che può dare di più alle squadre. Io non mi faccio problemi se il mister mi mette in panchina e dopo devo entrare. In questo momento non possiamo stare a pensare se gioco o non gioco, se no alle squadre che deve vincere. Quindi se mi fanno giocare dall'inizio, bene, se no aspetto la mia opportunità e quando entro devo dare il massimo. Ma possiamo pensare a queste cose, se sono titolari o no. Deve giocare quello che sta bene per il bene delle squadre. Quando entro in campo penso solo cercare di fare le cose bene e dimenticare tutte le brutte cose che a volte ci girano intorno. Bisogna pensarla così perché siamo messi nei guai e dobbiamo essere concentrati al 100% nella partita. Già il mister ci sta dando delle idee dei movimenti che dobbiamo fare, quindi oggi si finisce di rifinire il lavoro tattico per la domenica. Vabbè, abbiamo visto un po' di Alvarez, niente di trascendentale, ha detto cose abbastanza normali e scontate. Il tuo libro Gianni, voglio vedere qualche pagina del tuo libro. Che libro è questo? Quanti libri è scritto sulla storia del Bari? 16. 16 libri, vabbè. Più 3-4, direi così piccolo brochure su personaggi come il professor De Palo, come quello là, Angelo Albanese, Capocasale, Fusco e così via. Questi sono tutti i presidenti di Serie A. Sono 15 presidenti di Serie A. 15 presidenti di Serie A, quindi ci sono delle pagine anche particolari. Andiamo avanti, sfogliamo, sfogliamo. Andiamo avanti rapidamente. La cosa che può servire di più questo libro è che noi abbiamo messo due paginoni che comprendono una fotografia per ogni campionato DEA, per cui qualcuno si potrebbe fare anche dei quadretti, anzi dei quadroni. Chiedo scusa ai quadroni. Vabbè, comunque un libro splendido per chi chiama il Bari non può non avere i libri del professor Antonucci. Io l'ho fatto gratis, come tutti. Senti, noi avremmo dovuto avere oggi, questa cos'è quest'altra foto? Questa è la, come dire, la maglia che poi è servita per rifarla in occasione dei cento anni. Questa maglia è bellissima. Questa maglia è bellissima. Io rimetteri questa maglia. Questa è la maglia del Bari del 1946-47. E non è vero che dopo retrocedemmo. Ieri venne detto questo. Ieri è stato detto questo, non è vero. Anzi. Andiamo avanti? No, finito. Possiamo vedere, noi oggi avremmo voluto avere un ospite che magari ci riserviamo per un'altra volta. Sì. Perché abbiamo provato a contattare Italo Florio, che probabilmente per impegno di lavoro. Perché avevi scelto Italo Florio? Perché in quel campionato è stato l'uomo di punta del Bari, diciamo la verità. A parte il gol che ha segnato, in quel campionato con Pirazzini è stato il miglior campionato del Bari fatto da Italo Florio. Questa è una foto tipica di Florio. Non è vero che se la regia mi manda in onda qual è stato il curriculum di Florio. Vedremo che quello che praticamente... Qui ha altre foto. Per l'altro abbiamo avuto anche... Facciamo così, non ci bruciamo tutto. Non ci bruciamo. Perché mi riservo di contattarlo un'altra volta. Certo. Noi dobbiamo chiudere perché è già tardi. Dobbiamo ringraziare il professor Antonucci. Ecco qua, il curriculum di Florio però si legge. 117 partiti col Bari. Dobbiamo essere ottimista. Vedi Florio? Florio ha giocato 5 partiti in A tutti con la Fiorentina, poi col Bari, con la Reggiana e fino all'ultima partita che è stata Brindisi. Che vuoi dire adesso? Vuoi chiudere la puntata in che modo? No, voglio chiudere con l'arbitro, con un augurio come quello dell'altra settimana. Perché quest'arbitro, Valeri di Roma, è giovane, del 78, e posso dirti che non abbiamo mai perduto, anche se non ha arbitrato molto, non abbiamo mai perduto. Se vediamo sotto, se la Regia può mandare sotto anche il... Vediamo un po' se c'è qualche altro dato, il prospetto legato alla statistica. Ecco qua, vedi. Allora, vedi, leggi tu che io devo mettermi gli occhiali. Allora, Sampdoria-Bari 0-0 in Serie A, una partita. In B, tre partite, Parma-Bari 1-1, Bari-Cittadella 2-0, Albinoleff-Bari 1-4. Quindi due vittorie e due pareggi complessivamente, giusto? Sì, signore. E questo è l'unione di marci di Valeri. Oggi vi lasciamo con questo buon auspicio, sperando che il campionato per il Bari abbia ancora un minimo di senso. Del resto, noi, l'anno venturo, faremo il 39esimo campionato di Serie B, no? 39 sono assai. Ne abbiamo fatti 30 di Serie A, è veramente la Reggiana di Poli. Io resterò sempre con la mia squadra del cuore, cioè il Bari. Grazie a professore Antonucci. Vi ricordo il Biancherosso, ultimo minuto, in diretta dal San Nicola, ultimi minuti della partita, domenica, 88.8, Radio Bari, e poi commenti vostri e dei protagonisti. Mi raccomando, noi ci ritroviamo all'inizio della prossima settimana. Ciao. Ciao.